Giovanni Calvino nel suo commentario al libro dell'Esodo spiega l'espressione io sono colui che sono nei termini seguenti. In ebraico il verbo è espresso nel tempo futuro, io sarò quel che sarò, ma la stessa forza del presente se non che designa la durata perpetua del tempo, indica l'eternità, io sono l'eterno. È una scelta comprensibile perché Dio attribuisce solo a se stesso la gloria divina in quanto Egli solo non deve la sua esistenza ad alcuno, è eterno, è Lui che fa esistere, che dà esistenza ad ogni creatura. Egli non definisce se stesso con ciò che è comune ed è condiviso da altri, ma attribuendo a se stesso ciò che è peculiare solo a Dio, l'eternità. Ci porta ad onorarlo con la dignità che a Lui solo compete. Quindi immediatamente dopo, contrariamente ad ogni corretta forma grammaticale, fa uso dello stesso verbo nella prima persona come sostantivo connettendola a un verbo nella terza persona. Affinché la nostra mente si riempia di ammirazione ogni qualvolta si menziona la sua essenza incomprensibile.